Si è svolta questa mattina a Palazzo di Città Battipaglia la conferenza stampa del segretario cittadino del PD Davide Bruno che è entrato nel merito della questione dello stile di Battipaglia ma anche della riorganizzazione del partito in città. Nell'intervista le sue riflessioni e proposte. Il dibattito che si sta avviando riguarda il futuro e se il mantenimento del PD serve al paese e all'area di centro-sinistra. Su questo voglio dichiarare che non sono disposto a fare le conte, le tessere e quant'altro per i prossimi mesi. Si avvia una fase diversa dove dobbiamo riorganizzare una struttura all'area del centro-sinistra in termini totalmente diversi riscoprendo le ragioni di un impegno. Per quanto riguarda le vicende legate all'ambiente posso dire che ormai neanche possiamo giocare col fuoco. Nel senso che la pubblica amministrazione ha gli strumenti per contrastare, per regolamentare gli insediamenti. Si è perso fin troppo tempo, non si può giocare a scarica barile fra dirigenti, apparato e circostanze esterne. La politica è uno strumento efficientissimo, è quello della valutazione ambientale strategica. Infatti tutti gli insediamenti sono relativi alla via, la valutazione di impatto ambientale, che singolarmente ogni azienda ha la compatibilità per insediarsi. La VAS invece gli dà una visione complessiva, cosa che non è stata fatta fino adesso e secondo me una responsabilità grave da parte di chi invece dovrebbe guidare una comunità. Quindi qual è la proposta da parte del PD sullo stile? Allora, innanzitutto una grande VAS complessiva di tutta la Viana del Sile, che pesi la concentrazione delle aziende che abbiano questo tipo di tipologia, in particolare il trattamento dei rifiuti. Poi per il resto, sulle vicende politiche, parleremo anche per quanto riguarda lo scossone dell'amministrativo sul dimezzamento della Giunta e anche sul futuro del centro-sinistra. Io penso che dobbiamo andare al superamento, guidare un'alleanza civica, perché è venuto il momento che chi sente questa responsabilità debba organizzarsi oltre le proprie identità.